La materia oscura potrebbe essere prossima a svelare alcuni dei suoi segreti. I ricercatori che lavorano all'esperimento AMS, uno strumento per catturare particelle posizionato sulla Stazione Spaziale Internazionale, hanno presentato il loro primo raccolto durante una conferenza al CERN di Ginevra. Il padre dell'AMS, Samuel Ting, è convinto che sia ormai solo una questione di tempo per risolvere il grattacapo, ovvero capire di che cosa sia composta la materia oscura. I ricercatori ritengono infatti che i positroni catturati dall'AMS siano il frutto della collisione di particelle di materia oscura, quella materia di cui sarebbe composto circa un quarto dell'universo. Uno dei più grandi misteri del cosmo è che cosa ci tenga insieme, da quale misteriosa sostanza sia formato tutto quanto. La teoria prevalente negli ultimi 80 anni è che la risposta sia nella materia oscura, che non riusciamo a vedere, ma che sappiamo essere presente. I critici sostengono però che una prova concreta sia ancora lontana e che la conferenza di Ginevra serva solo a giustificare l'enorme quantità di denaro investita nell'esperimento.